Musica 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 Sì, il momento delle politie è fantastico per fare foto tessi, perché no, anche dei ragazzini, c'è la demonizzazione che riuscita alla porta, andiamo via, andiamo via, la mia chiamina, oggi è l'epoca di, il che significa che c'è la casa in cui Osana e che fai, che ammettere verso scuola, senza cose che ci sto sto tirando, non è questo che ci interessa, perché per oggi Osana non dovrà affogare. Il tema di oggi prevede che Osana venga denunciata per attivare e dobbiamo cominciare con ottenere un cacciavite, quello forse di tutti i vari sabotati che si fa la canzone e di tutti i culetti ovviamente è un po' colpevole per una volta. Ecco qua il nostro cacciavite, il prossimo passaggio vi chiede che io vada a sabotare la macchina gialla che c'è nella caffetteria. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.